Lunedì faremo la direzione nazionale del Partito Democratico, discuteremo del voto e delle prospettive per il Paese, lo faremo in maniera unita, cercando strade condivise. Il nostro ruolo è quello dell'opposizione, ce l'hanno assegnato gli elettori, non di fare stampella a governi di 5 stelle o del centro-destra. Aspetta a chi ha vinto le elezioni la responsabilità di indicare la guida per il governo del Paese, a noi aspetta a farlo l'opposizione, farla in maniera seria e responsabile nell'interesse dell'Italia. Grazie